State per uscire per il vostro solito giro domenicale o per andare a prendere la vostra fidanzata e vi rendete conto che la vostra moto è assolutamente sporchissima, piena di moscerini, piena di fango, pieno di catrame. Beh, normalmente l'unica soluzione era prendere un bel secchio d'acqua con un detergente specifico e iniziare a lavare prima la carrozzeria, poi prendere un detergente per i cerchi, iniziare a lucidare i cerchi, uno per il parabrezza, uno per togliere i moscerini e così via. Oggi vi propongo un prodotto assolutamente innovativo che potete trovare ovviamente nello showroom Oram e su www.oramonline.it Stiamo parlando di Vulcanet. Vulcanet è uno speciale detergente che viene venduto sotto forma di salviette, ogni confezione ne contiene 80 e una è sufficiente per lavare una moto intera, che racchiude in sé un detergente per carrozzeria, un detergente per cerchi, un detergente per rimuovere gli insetti, un detergente per le cromature e uno per i parabrezza. Tutto in queste comode salviette. Utilizzarlo è semplicissimo, vi basterà prendere appunto una salvietta e iniziare a strofinare le parti interessate, andando poi a usare questo panno in microfibra che viene fornito nella confezione per asciugare e lucidare. Vi assicuro che il risultato è strabiliante. Provare per credere! Grazie!